Le mele costano poco. Le mele 4. Le mele 1,71. Sono cresciuti i prezzi, c'è la benzina che costa di più. C'è scritto, c'è scritto. Sì, ma quello è il prezzo in lire, devi fare per due. È per aiutare, perché il governo nuovo, per aiutare gli anziani a capire i prezzi, mette il prezzo in lire. In euro è il doppio. Quindi 1,71 per 2, 3. Sei andato a ballare ieri sera? 3,42. Sei andato a ballare ieri sera? Sei andato a lezione, sì. Hai ballato? Sì, molto bene. Ieri era un pochettino stanco. Ma c'era donne giovane? Qualcuna, un po' giovani, un po' più o meno giovani. E tu con chi balli? Con tutti, giriamo. Ah, allora vengo anch'io. Vieni. Comunque stavamo dicendo, le mele 3,70 euro. Sì, magari. Tre pacchetti. No, uno. Tre pacchetti sono 9. Poi abbiamo questo nome qua, 5 euro. Quattro e qualcosa però costano, eh? Sotto, ho detto, quattro e qualcosa. Sotto cosa abbiamo? Il salmone. Uh, il salmone. Sai che non ci sono più salmoni in giro? Li mangiano tutti gli orsi. Tutti gli orsi. Gli orsi e la luigina. Comunque, il salmone, non mi ricordo, forse 9. Oh, ma che cifra bella che viene fuori. E poi cos'è? Una banana? Una banana. Una banana sola? Sì, le banane non bisogna più comprare. Sai perché? Perché sul camio adesso sono tutte gelate. Come li porti a casa, zac, marchiscono subito. Tutti gli anni. Tutti gli anni viene fuori questa storia. E per forza, adesso, tutti quei cami che erano fermi con la neve. Quando 27 gradi, che cosa gela? Oggi, ma quando nevicava? Ma tutte oggi le portano. Oggi c'è in giro un traffico di camion. Di banane. Tutte le banane oggi. Tutte le banane oggi. Vabbè, quindi abbiamo detto 2 più 6, 8. Più 8, 16. Più 4, 20. Più 9, 29. 30 euro. 26 più la benzina, 30 euro. Sì, perché hai portato anche la legna. Allora 40. 45. Aumento. Aumento invece di diminuire. Aumento, aumenta. Ti ho portato 2 mandaranci. Eh? 50. Ah, bravo. I mandaranci, sì.